Salve, sono Andrea Bertocco, il direttore del Dipartimento Scientifico all'Herbalife MEA. Qui in agosto festeggio il mio 14esimo compleanno in azienda e in 14 anni ho avuto l'opportunità di imparare un sacco di cose nuove, di lavorare con persone fantastiche e di creare prodotti incredibili. Ho avuto anche l'opportunità di vedere l'azienda cambiare, un'azienda che era leader nel campo dei pasti sostitutivi per la perità del peso ad un'azienda che ora è leader nel campo della nutrizione. Questo cambiamento secondo me è dovuto a due fattori molto importanti. Il primo è il riposizionamento della Formula 1, da alleato molto potente alla perita del peso, ad alleato potente a quelli che vogliono sostituire pasti poco sani con un pasto che ha un alto contenuto di nutrienti e un basso contenuto calorico. L'altro fattore molto importante è l'arrivo di prodotti nuovi. In questi 14 anni ne ho visti tanti. Sono tutti prodotti che hanno dei pacchetti scientifici molto grandi. E cosa vuol dire? Che hanno anni di ricerche, che hanno collezioni scientifiche, che hanno studi, ma soprattutto che sono sani. Per sviluppare un prodotto di solito impieghiamo circa 24 mesi. Non è semplice come mescolare due o tre ingredienti assieme, magari fosse così. In questi 24 mesi tanti dipartimenti si interfacciano per creare questo prodotto. Vediamolo un po' come una struttura sul legno. Iniziamo con un pezzo di legno grezzo, facciamo un disegno con una matita, iniziamo a rintagliarlo, poi lo si leviga e magari alla fine possiamo anche verniciarlo. Creare un prodotto funziona bene o male così. Partiamo con un'idea grezza. Quest'idea viene dal marketing, che ha studiato i trend, le esigenze dei consumatori e la passa direttamente al dipartimento di innovazione. L'innovazione che si occupa di trovare gli ultimi ingredienti emergenti. Di solito vengono da noi con cinque o sei idee. A questo punto l'idea si suddivide in due fasi parallele. Una fase con la qualità, approvvigionamento e regolatorio e l'altra è quella scientifica. Qualità che si occupa di vedere se questi ingredienti hanno i stessi standard che abbiamo noi e se non li hanno o facciamo extra test o li scartiamo. Regolatorio che si occupa di capire se questi ingredienti possono essere utilizzati dappertutto, anche in Italia. Il terzo è quello dell'approvvigionamento. Non tutti i rivenditori possono accontentare i nostri volumi, ad esempio, o magari non sono abbastanza reputabili. Quindi preferiamo magari abbandonarli. La fase scientifica invece ci occupa di analizzare proprio il pacchetto scientifico che è stato offerto con questi ingredienti. Spesso questi produttori emergenti creano studi clinici, creano evidenza scientifica, ma noi vogliamo revisionarla. Vogliamo capire A se l'ingrediente è sicuro e B se l'ingrediente veramente ha queste caratteristiche benefiche. Se non le ha, facciamo due cose. Andiamo noi nei vari database, cerchiamo gli ultimi 40 anni di pubblicazioni scientifiche per vedere se possiamo creare un pacchetto molto più forte. Se questo non è possibile, creiamo una partnership col produttore e facciamo test addizionali, oppure detestiamo noi stessi. Spesso a questo punto, da sette ingredienti che avevamo all'inizio, ci troviamo con pochi, magari per mancanza di pacchetti scientifici o anche per punti di domanda che si sono affiancati alla sicurezza dell'ingrediente stesso. A questo punto, quando il mio dipartimento ha detto di sì per quanto riguarda il pacchetto scientifico, parliamo con i nostri colleghi in America per capire se possono fare una ricerca relativa agli eventi avversi che questi ingredienti potrebbero avere. Quindi controllano altri database per capire se altri ingredienti simili utilizzati in tutto il mondo hanno creato problemi durante il consumo. Una volta che il mio dipartimento è soddisfatto, che i dottori hanno detto di sì, che regolatorio, qualità e approvvigionamento hanno tutti approvato questi ingredienti, ci troviamo proprio alla fase di sviluppo. Qui siamo un po' quasi all'inizio. Dobbiamo capire se questo prodotto sarà un frullato, se sarà una barretta, se sarà una compressa. Dobbiamo capire se è buono o se non lo è. Dobbiamo capire se è stabile. La stabilità è molto importante. Ad esempio, se ci sono vitamine e minerali, noi dobbiamo assicurarci che queste vitamine e minerali siano alla fine presenti nella scadenza del prodotto, che i livelli siano gli stessi. Abbiamo visto quanto è complesso creare un prodotto e quanto importanti siano tutti questi fattori che contribuiscono a crearlo. Una conferma viene anche dalla revisione scientifica fatta dagli esperti dell'Università Foro Italico di Roma, dall'Università di Parma e dalla Federazione Italiana Medicina dello Sport. Questa revisione scientifica parla dell'importanza dell'epico, che è il lievito di birra creato in un modo molto particolare, e anche dell'importanza di integrare vitamine come la vitamina D e la vitamina C, o minerali come lo zinco e il selenium. Tutti importanti per mantenere un buon sistema immunitario. Spero che questa mini review vi sia piaciuta. Ci vediamo al prossimo lancio. Grazie. 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 Grazie.